Oggi è in mente qualcosa Adesso non so se uscirà Vabbè credo la settimana prossima Perché oggi 13 Sì vabbè Praticamente ho poco tempo per registrare L'altra volta ci ho messo ben 4 ore Tra registrazioni ed editing In più ci ho messo un sacco a caricarlo Perché è pesantissimo il video È uscito un video da 14 minuti ma ben editato Quindi insomma è un po' un casino Allora ho messo il rating E oggi Abbiamo parlato dei tag Cioè praticamente sono Delle chiavi di ricerca Da mettere in questo form che c'è qui Per trovare i livelli che hanno quella parola all'interno del nome Benissimo il tag della scorsa puntata era PewDiePie quindi uno youtuber molto famoso Oggi mi avete dato sempre un altro nome di un altro youtuber Abbastanza famoso italiano Che è surreal power Non ho idea se esistono livelli a suo nome Però lo proviamo Oh sì che ne esistono E sono anche ben votati Allora Facciamo un pogo Surreal power lo conosco Perché lo seguiva Adesso non ho più tempo neanche per fare quello Per seguire uno youtuber È brutta la vita Quando c'è la scuola di mezzo Perché la scuola aiuta Ma la scuola tortura Cazzo What the fuck? In questo momento nella scorsa puntata Mi sarei già tipo depresso Perché avrei dovuto mangiare un limone Non spaccarti la testa senza senso One direction lo devo superare Ok Poi bad Io sono troppo bravo con il pogo Guardate che mosse faccio No no Ok Boom Nice Nice CTRL più space Perché va più in alto Oh Questo non lo sapevo Ok Se io tengo CTRL Abbasso il culo Poi calco la spazio E va più in alto Poi non tocco niente Olè Non spaccarti la testa Please Please Pleazze Pleazze Olè Tobuscus Ho detto bene Ma che cazzo Ok Dai questo livello è abbastanza semplice Non è vero Non l'ho ancora finito Aspetta Aspetta PewDiePie è più bravo di Eh scusate Surreal Power è più bravo di PewDiePie Cos'è la storia? Qual è la situazione? Che credo di non aver capito Ahia ma io sono più bravo di tutte e due Messe insieme Allora 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 L'ultimo livello C'è l'ultimo Ah no no Un cutzen No Allora Basta Mi ha rotto le palle Povermi rotto le palle Sì Andiamo a un FUTV Ma che tag mi date? Facciamo che Dalla prossima puntata Facciamo un altro tipo di tag Cioè niente Porca puttana Non l'avevo visto Intendevo dire Dalla prossima puntata E il tag Ne N'affanculo Non mi fa parlare Quindi fermiamoci un attimo Dicevo Il tag Per i tag Dalla prossima puntata Evitate di mettere un nome Di un youtuber Perché sennò Escono sempre gli stessi livelli Come faccio Evitarlo Forse mi do avvicini Se mi avvicino parte Anche se c'è il muro No No è peggio Aspettate Control Più Barra spaziatrice E salto più in alto Ma mi becca Il mio busto Ha vinto Il mio busto Insieme al La gamba Si Il piede si è staccato Quindi non posso dire Anche quello Andiamo avanti Surreal power Che fantasia Scegliamo Questo Così possiamo Forse dobbiamo usare Il pogo E vince Io sono il re del mondo Io sono meglio Di Surreal power In questi giochetti Di merda Certo poi magari Mi capita Un outlast Selvatico E Mi cago In mano Eccomi qua Scusate Allora Dicevando Stavo Dicevo 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 Surreal 99,999% Credo impossibile What the fuck Ok Questa era la prova Per vedere cosa mi succedeva No Mi è scappato il dito No La bomba no Anzi si La bomba si Ok Così ho fatto esplodere Sono un genio No Ce l'ho quasi Devo riprovarci Devo riprovarci Devo farcela Sì Sono ancora vivo Non ce l'ho fatta Non ce la farò mai Allora facciamo Surreal Provaci Ciao Surreal Vediamo se ci riesci Senti mi saluti nei video Mi chiamo Sole Saluta anche quel fapponi Di Vrend Stepney E Vegas Continua così Sei il mio youtuber preferito Prima o poi ce l'avrò anch'io La bicicletta Oh una moneta Voglio quella moneta Posso saltare? Allora mi impenno? Olè Ma che cazzo Ah la faccio prendere Bambino Oh sì Mi piace Questo livello Non so perché ce l'ho tanto Con sto bambino Sarà per il fatto Che mi fa Perdere sempre No 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 Non si fa così Ma impossibile Facchio Oggi un bel tag De mierda Ve lo posso dire? Certo che ve lo posso dire Surreal Fappa Sto per cambiare tag Perché mi hanno tolle palle Mi aspetto qualcosa di più Divertente What? Allora vediamo un po' Non cadere Ok No non ti servono le gambe Non ti servono Porca puttana quanto è difficile Sì ok cambiamo tab Mi ha rotto le palle Abbiamo un minuto e tredici Va bene Il tag di oggi sarà Quiz Sì Mh Quiz Di PewDiePie Dai va bene va bene Sarà perché non sia sempre la stessa cosa Vediamo un po' Oh merda Il primo video di PewDiePie Sarà Slenderman Oppure Happy Wheels Un zimmy che Minecraft Perché A proposito di Minecraft Ok non era Minecraft Devo finire la serie Azzo Cioè devo andare avanti la serie Scusate se non sto facendo video E che Vi giuro che mi roba Che cazzo ma ne sono di tre allora Non vi ho mica Minecraft Non ci posso credere Anche se ho visto che finisce anche questo tunnel Là Broarmi sarà Non è di cosa sia Ok l'ho indovinato Yeah 3 2 1 The name of PewDiePie Questo fakes Vabbè lo sappiamo tutti Questo è l'unico Oh sono un delfino Quanto è bello se non vesti Un delfino Non cadere Non cadere Brum brum Motherfuckers Oddio mi fai cagare così Dai finiamo questo livello E poi Chiudo la puntata Il gioco Inventato da PewDiePie Ha inventato un gioco Barrels Non lo so Li odia Quindi suppongo che Sì ok perfetto Sono un indovino What the Want to be My next quiz Happy wheels Dai Happy wheels Ah Pensavo di non aver vinto Mi stavo incazzando Io sono Spieghionato Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Iscrivetevi con i villette Mi trovate sempre su Twitter Google Plus Il mio sito lo sto rifacendo Grazie ancora a Dexter Perché mi sta Aiutando a trovare un hosting Anzi me l'ha già trovato Devo contattare il Il gestore Ma insomma Appena ho tempo lo faccio Anzi mi scusgo Scuso per il ritardo Comunque Mi trovate sempre su Twitter Su Facebook Digitando facebook.com Spieghionato Ufficial Io sono Spieghionato Ciao a tutti Ci vediamo nel prossimo video Qui sul mio canale Ciao Ciao Ciao